la medaglia. Allora, questi denti vi ho dato già una buona infarinatura, nel senso intanto si possono rompere? La risposta è sì. Esistono i denti indistruttibili? No. Fare pubblicità di denti perfetti? No, è falsa informazione. Ok, non è veritiera. Dire che in Moldavia è il più economico, bugia. Ci può sempre essere un posto più economico. Noi siamo sicuri che i protocolli che stiamo adottando sono… non facciamo nomi. Io sono privato e posso dire quello che voglio. Facciamo molta attenzione perché c'è molta pubblicità in giro. La verità è che noi dobbiamo dividere la pubblicità da ciò che realmente funziona sul lungo termine, non sul breve termine. Sul lungo termine quello che abbiamo visto ad oggi che funziona è intanto andare sulla quantità di impianti dentali, ricostruire l'osso prima di mettere impianti dentali e quindi rendere una situazione complessa difficile. Da difficile, mediamente semplice, poi finiamo. Se noi affrontiamo una situazione complessa con tecniche semplificate, mettere quattro impianti in poco osso, magari a lama di coltello, in più faccio la tecnica di carico immediato con la chirurgia guidata, ok, è un sicuro fallimento. Perché sto mettendo impianti… il paziente soffre meno, non si gonfia, il portafoglio soffre meno, ha solo quattro impianti. In un unico viaggio gli metto i denti in resina. Paziente contento, recensione positiva nel breve termine. Ok, dopo cinque anni devo scappare con la cassa. Abbiamo esempi di cliniche che sono scappate con la cassa, che potete andare a vedere per esempio in Bulgaria, Sofia. Ok, poi vi farò vedere di cliniche. Allora, ve lo faccio vedere adesso, se no rimane… Ce ne sono molte, no, non possiamo parlare dell'Italia, in Italia sono tutti bravi… No, ma penso che è scappato, non solo costava, ci sono fatto pagare quasi… Allora, andiamo a vedere qua una clinica, per esempio, sono tutte cose pubbliche, ok, qua non mi denunciano. Andiamo a vedere la pagina… Bellissimi i denti, sono bellissimi i denti, hanno bravi fotografi, ok. È facile impressionare con una foto così, per esempio, prima e dopo. Qua c'è i denti, lì non c'è i denti. Quindi sanno fare i denti, ok. Sanno fare i denti, questo c'ha i denti, questo non ce li ha. Questo c'ha i denti, quello non ce li ha. È perfetto, no? Andiamo a… salviamo l'immagine, la zoomiamo, ok, me la salva qui sotto. Andiamo a… dove è download, download, vedo tutto piccolo. Download. Questa è l'immagine. Ok. Perché le lezioni è sempre belle farle interattive su cose reali. Questa è la radiografia prima, ok. Allora sì, c'aveva pochi denti, la parte sopra c'ha i seni macellari da questo lato, con pochissimo osso, ok, mi alzo, vediamo se ci arriva, questo c'è pochissimo osso qua. L'unica zona per mettere osso qua è questa anteriore, ok, ma non vedo se è sottile, cioè vedo che è alto. Vedo che gli impianti, se li metto inclinati, arrivano almeno fino al primo molare, però noi dovremmo avere due molari. Quindi, cose che mi fa scegliere se ricostruire o meno l'osso qua, vado a vedere sotto, nel senso, se metto un dente in più qua, sotto posso mettere il dente? Sì, l'osso c'è. Questo è il nervo. Qua c'è una tonnellata di osso qua, e abbastanza osso qua per arrivare almeno fino a qua con gli impianti. Quindi sopra ha senso ricostruire, anche perché ho più di 4 mm di osso, e qua posso già far attecchire un innesto di osso di questo volume. In più la distanza tra le due arcate non è esagerata, perché se fosse esagerata, perché l'osso si era risorbito così, dovevo scegliere impianti zigomatici. Qua invece ha senso ricostruire, fare il grande rialzo di seno macellare. Andiamo a vedere il paziente cosa avrà fatto. Avrà fatto una ricerca, mi cura all'estero, vado a farmi i denti risparmiando. Il lavoro che fa sono, questa l'avevo messa anche sul gruppo, proprio questa, un impianto, 12 impianti, invece ne poteva mettere osso. Lì su non è stato messo impianto, posteriore, ok, sopra, perché non è stato messo l'impianto lì? Non c'è messo? No, è stato messo, l'ha perduto. L'ha perduto, perché gli altri due li ha messi davanti, perché lì dietro c'era un altro impianto. Però sono dimenticato. No, no, c'è stato. È una storia di problemi questa. Questo lo sta per perdere, tutto fuori dall'osso. L'osso qui dovrebbe arrivare qua, a questo livello. Dovrebbe essere coperto fino a qua. L'osso si sta riassorbendo, l'osso qui si sta riassorbendo, ha già le spire fuori dall'osso, spire fuori dall'osso, spire fuori dall'osso. Da questo lato questo va bene, questo va svitato, svitato. Questo va bene, questo va svitato, questo va bene ma manca. Qui c'è un cantilever, chi vince tra questo che c'è il pilastro sotto e questo che non c'è nulla, se qua va una noce e non ha feedback masticatore. Si spaccherà qua, qui si rompe, fa così fa, tac. Ok, per non voler ricostruire l'osso. Perché si ricostruisce l'osso? Qua è stato messo addirittura un impianto dentro il seno macellare, nel vuoto. Ok, questo è da denuncia. Questo è da denuncia, però il paziente quello che vede è questo. Ma questo qua è una bomba a orologeria che va, ma non a livello protesico che scheggia i denti. Questa è una bomba a orologeria che deve rifare una chirurgia secondaria, dovrà fare. Svitare gli impianti, risottoporsi a chirurgia dei seni macellari. A questo punto noi nella chirurgia secondaria cosa facciamo? Andiamo a semplificare la situazione. Si svita, si ricostruisce l'osso, dopo che l'osso è, mettiamo gli impianti. Dopo che gli impianti sono attecchiti, facciamo una protesi con un ammortizzamento, che può essere per esempio il pecton, che ammortizza, e sopra delle ceramiche inizialmente in composito. Vediamo se ci sono problemi. Se dopo due anni non ci sono problemi, sostituiamo con lo zirconio. Questo è il protocollo corretto. Le linee, però perché avviene questo problema? A voi direte, perché sono in mala fede? Non è detto. Semplicemente magari sono, come ti dicevo, in ostaggio di gente che gli porta pazienti. Ok, ma questo gli hai detto, gli fai sei impianti, non mi puoi dire ora che deve farne otto e deve ricostruire l'osso, questo non c'ha i soldi. Ok, glielo faccio. Questo si verifica ogni giorno. E cliniche che hanno, per esempio, le reti commerciali, ogni giorno nascono da questo non poter fare le cose come si vuole. Se lavori nell'ASL, è perché devi magari operare con quei materiali che ti danno, non c'è budget, guarda, non cercarmi budget, avete cucchiaio, forchetta, fate l'operazione. Oppure, sì, ma allora io non ti porto più pazienti a te, li porto a Punto Bianco, oppure li porto a quella clinica là, a Med Park. E fai quello che vuoi. Ok, i pazienti vengono da noi, non puoi? Noi, quello che diciamo, aspetta. Ma non fare le cose a metà, non fare le cose semplificate, se il caso è difficile, va fatta la cosa giusta. Se non lo puoi fare per una questione economica, magari non lo puoi fare oggi, ma lo puoi fare fra 5 anni. L'importante è spendere una volta, ma fai le cose giuste che vanno fatte. Grazie.